ciao bentornato nuovamente il mio canale e se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui video che verranno caricati nel canale e lasciami un commentino qua sotto anche semplicemente un cuoricino per farmi capire che sei passato o che sei passata in questo video vi faccio vedere come prendere le misure perfettamente delle riviste perché è una domanda che mi fai spesso come devo regolarmi per prendere le misure dei cartamodelli delle riviste quindi voglio fare una serie di video usciranno uno alla settimana dove ti parlerò di una rivista e ti spiegherò nel dettaglio come si prendono le misure perché ogni rivista è diversa ed è a sé iniziamo con la mia boutique che è un giornale fantastico a me piace tantissimo lo compro da tantissimi anni questo è il numero di ottobre 2022 che magari vedi questo video seguendo questo video il giornale non c'è più ricordati che puoi andarlo a comprare in la mia boutique.net dove puoi acquistare tutti i numeri vecchi e acquistare il giornale anche se un giornale risalente a un anno fa in questo video quindi andiamo a vedere insieme come possiamo regolarci con la taglia giusta da utilizzare con il cartamodello e quindi imparare a utilizzare al meglio i cartamodelli per non sbagliare ti lascio al video come rilevare i cartamodelli di la mia boutique prima di tutto dobbiamo trovarci la taglia sono taglie italiane per quanto riguarda la mia boutique quindi è più facile e ci sono questi tracciati che come possiamo vedere sono tutti diversi gli uni dalle altri noi dobbiamo scegliere il tracciato che corrisponde alla nostra taglia ogni modello è contraddistinto nel foglio tracciati da un colore per esempio il nero verde azzurro magenta arancione e da un gruppo di quattro tratti di rilevamento quindi le quattro taglie che abbiamo visto qui prima aprire il foglio tracciati accostarlo alla spiegazione del modello e cercare sullo schema di appoggio i numeri corrispondenti a ogni pezzo del modello questa operazione faciliterà il riconoscimento della forma di ciascun pezzo del foglio tracciati in questo caso per esempio 7 qua vediamo che c'è 7 dobbiamo andare a vedere nel cartamodello dove c'è il 7 evidenziare il cartamodello con un pennarello il contorno di ogni pezzo le sue linee interne anche il dritto filo e tutti i vari simboli e le scritte io lo faccio con l'evidenziatore dopodiché sovrapponi il foglio di carta velina e ricalca con molta precisione quanto precedentemente evidenziato e quindi da questo avremo il nostro foglio con nostro tracciato ma come si trova la misura corretta in ogni numero di la mia boutique possiamo trovare dove ci spiega come prendere le misure qui il bacino la vita al seno parte alta del torace e via dicendo una volta che hai preso tutte le tue misure facendoti aiutare da qualcuno perché da soli è un po difficile e ricordando che devi utilizzare un metro che sia morbido al punto giusto indossare solamente biancheria intima oppure come qua una maglia molto elasticizzata e un leggins e scalza e se possibile ti segni tutto in un foglio vai a controllare qui in queste tabelle facciamo un esempio la tabella taglia donna ad esempio circonferenza vita mettiamo il caso che una persona abbia 68 di vita quindi a una 42 avere la 40 devi avere 64 e per avere la 44 72 come il calcolo dai 64 ai 68 hai una 40 quindi 664 65 66 67 hai una 40 dai 68 hai una 42 per avere una 44 devi arrivare a 72 quindi 69 70 71 e poi a 72 scatta la 44 quindi se hai per esempio 65 di vita avrai una 40 non una 42 perché sta all'interno di questo range la stesso discorso e taglie più donna o le taglie uomo oppure anche le taglie bambine le tagliano nato tra l'altro qui c'è uno schema molto facile dove ci spiega come prendere le misure ai bambini quindi con tutte le accortezze da prendere in considerazione mentre qui ci spiega come modificare il cartamodello quindi nel caso in cui allungare il corpino accorciare il corpino allungare la gonna allungare i pantaloni quindi dalla linea ginocchio qua dalla linea bacino accorciare il corpino e dal dal fianco allungare il corpino è sempre dalla parte del fianco quindi quando abbiamo un foglio molto importante dello sviluppo delle taglie un metodo per aumentare o diminuire la taglia del cartamodello scelto cioè io per esempio facciamo un esempio per esempio io taglia donna o una 40 non a 48 una 50 quindi ho bisogno di aumentare la taglia perché qui non esiste come devo fare devo rinunciare il cartamodello la mia boutique assolutamente no devo andare a vedere questa tabella qui dello sviluppo delle taglie devo riportare sui fogli di carta velina i vari pezzi del cartamodello nella taglia più vicina alla propria per esempio la 48 perché io la 50 sto facendo un esempio ok quindi mi riporto la 48 che l'ultima taglia oppure ovviamente se io di meno quindi ho una taglia più piccola facciamo sempre il nostro esempio se una circonferenza vita per esempio quindi ho una taglia non 48 ma o una taglia 36 per esempio quindi più piccola della 38 e la stesso discorso devo rimpicciolire la taglia quindi devo riportare sulla carta velina il modello più piccolo quindi il tracciato più piccolo quindi più vicina alla propria per ottenere la propria taglia da un modello di taglia immediatamente inferiore o superiore quindi la cosa che ti ho spiegato adesso bisogna seguire le variazioni suggerite negli schemi di questa pagina che sono fondamentali questa pagina sarebbe da ritagliare e avere sempre portate di mano quando facciamo i cartamodelli di la mia boutique quindi guardando questo schema la linea continua indica la taglia rilevata dal cartamodello il tratteggio con la taglia inferiore il tratteggio lungo con la taglia superiore andiamo a vedere allora questa linea dritta che vediamo qui la taglia che ho rilevato dove devo andare a diminuire o aumentare non posso aumentare da tutte le parti devo aumentare in certi punti del cartamodello che adesso andiamo a vedere insieme per accorciare un modello praticare una piega orizzontale sulla velina nella misura necessaria per esempio prendiamo il corpino questa la parte del corpino quindi se stiamo facendo una maglia se stiamo facendo un vestito insomma la parte superiore come si modifica lo vediamo dalle frecce qui da 0,5 andando verso l'alto o verso il basso nel centro nel mezzo dietro quindi questa la parte del dietro la metà devo salire o di 0,5 se voglio avere una taglia maggiore scendere di 0,5 se voglio una taglia minore poi questo invece è il punto della spalla quindi la fine del del girocollo anche qua devo sollevarmi o abbassarmi il 0,5 qui invece alla fine della spalla faccio la stessa cosa posso sollevarmi qua di 0,35 quindi sia sollevarmi che abbassarmi spostarmi verso destra di 0,5 quindi questo movimento qui magari se ti interessa posso farti un video nel dettaglio come aumentare o diminuire una taglia ma qui abbastanza facile poi qua nel mezzo dietro quindi in questo punto qui noi ce l'abbiamo sempre segnato nei cartamodelli una lineetta questa bisogna riportarla sempre nel cartamodello perché tramite questa possiamo aumentare lo scalfo quindi aumentano sia lunghezza sia diminuendolo sia aumentandolo e sia in larghezza diminuendolo aumentandolo di 0,6 e allungandolo o rimpicciolando facendo una sorta di pens nella carta in 0,1 la pens del mezzo del mezzo dietro devo aumentare la lunghezza o diminuire di 0,5 quindi per ogni taglia 0,15 0,15 e qui di aumentare di 0,5 o diminuire di 0,5 quindi questo poi qui che sempre alla base della vita abbiamo la vita posso aumentare di un centimetro o diminuire di un centimetro per taglia andiamo a vedere il mezzo davanti la metà davanti e il centro davanti di 0,35 posso aumentare o diminuire all'altezza dello scollo quindi in prossimità delle spalle posso aumentare andare verso l'alto o verso il basso di 0,5 andare verso sinistra o verso destra di 0,25 e alla fine della spalla di 0,35 verso l'alto verso il basso e 0,5 verso destra e verso sinistra ovviamente devo farli tutti se io voglio passare dalla dalla taglia all'alto devo praticare queste modifiche su tutti questi che ti sto facendo vedere anche qua abbiamo nello scalfo una linea quindi per aumentare devo aumentare di 0,1 verso l'alto verso il basso allargarlo di 0,6 poi abbiamo qua una pens nel caso in cui noi abbiamo una pens posso aumentarlo o diminuire quindi scendere o sollevare il punto dell'inizio dello scalfo di 0,15 quindi spostarmi verso l'alto e verso il basso di 0,15 mentre mi posso spostare aumentando la dimensione dello scalfo di un centimetro come nel caso del dietro andiamo giù e vediamo la pens la pensa possa aumentare di 0,5 e di ampiezza di lunghezza di 0,15 per taglia mentre mi posso allargare verso l'esterno di un centimetro per taglia andiamo in vita lo stesso discorso della parte davanti posso aumentare di un centimetro e qua posso aumentare diminuire di 0,5 quindi è molto importante non solo aumentare diminuire nei punti giusti ma anche aumentare di quella determinata misura quindi qua 0,5 qua e uno cioè qua e 0,15 dipende da dove devo diminuire aumentare siamo al collo nei colli posso ci sono sempre queste tacchette ecco perché importante sempre riportare nel cartamodello posso aumentare 0,3 e allungare di 0,5 per quanto riguarda la lunghezza del collo per taglia per taglia andiamo a vedere la manica la manica intera perché poi abbiamo le due parti delle maniche la manica intera abbiamo il colmo della manica lo possiamo sollevare di un centimetro per taglia nella tacchetta nello scalfo di 0,7 posso aumentarla verso l'alto verso il basso e allargarla di 0,3 mentre nei punti la parte che poi corrisponderà alle ascelle posso aumentare di 0,5 quindi allargare di 0,5 e allungare di 0,5 quindi sia da una parte che dall'altra lo stesso per quanto riguarda l'orlo quindi aumentare o diminuire di 0,5 per quanto riguarda la manica a due pezzi che si trova nelle giacche il discorso è lo stesso andiamo a vedere i nostri numeri lo scalfo quindi nel centro dello scalfo nelle parti dell'asca qua c'è tutto spiegato il discorso è sempre lo stesso la stessa cosa vale per quanto riguarda il mezzo davanti e il mezzo dietro dei pantaloni andiamo a vedere vogliamo fare una taglia in più vogliamo fare una taglia in meno andiamo a controllare nel mezzo dietro dobbiamo possiamo aumentare quindi allargare il nostro cartamodello del pantalone di 0,7 o diminuire di 0,7 allungare di 0,5 la stessa cosa anche dall'altra parte della vita del pantalone possiamo allargare il fianco di 0,7 per taglia per quanto riguarda il mezzo dietro quindi la parte di dietro dei pantaloni e nel cavallo lo posso aumentare di 0,7 o diminuire 0,7 per quanto riguarda loro lo posso aumentare quindi allargare il mio modello di 0,5 per parte aumentare o diminuire e allungare il cartamodello per per taglia di un centimetro lo stesso per la parte davanti bisogna seguire tutte queste istruzioni quanto riguarda la gonna abbiamo il mezzo davanti guardiamo la parte del davanti questo è il centro davanti della gonna possiamo aumentare o diminuire la taglia aumentando di 0,5 diminuendo di 0,5 sia nel centro davanti che nel fianco mentre dobbiamo aumentare anche nell'orlo della nostra gonna sia interno cioè nella parte centrale che è l'orlo esterno della gonna possiamo e dobbiamo aumentare o diminuire a seconda delle situazioni di un centimetro abbiamo anche lo schema per il fianchino e lo schema ecco qua l'esempio di una manica corta con i relativi tratti di taglia dalla taglia 40 per esempio la taglia 46 questo è un altro esempio spero che questo video ti sia stato utile e a me non mi è mai stato insegnato questo l'ho studiato da sola perché basta guardare per studiare però ho voluto farti un video esplicativo in modo da spiegarti appunto come si modificano le tagli quindi non solo come si prendono le misure ma anche come si modifica le varie taglie abbiamo parlato oggi di la mia boutique anno questo è l'ultimo giornale adesso che sto pubblicando questo video di novembre dicembre 2022 ovviamente se stai guardando questo video più in là nel tempo ricordati che tutti i numeri della mia boutique li puoi ordinare online nel sito di la mia boutique ti lascio tutti i link per andare a guardare il loro sito se ti è piaciuto il video iscriviti al canale clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato il regalami un bel like e lasciami un bel commentino qua sotto anche delle domande se c'è qualcosa che non è poco chiaro o che vuoi che io ti chiarisca in un successivo video fammi sapere e io sarò lieta di poterti aiutare buon cucito sartoriale ma soprattutto terapeutico perché il cucito è anche terapia ciao e alla prossima ciao ciao ciao